io saluto tutti vi prima di darti la parola tommaso mi presento perché per quelli che non mi conoscono e anche per spiegare quale diciamo il lo spirito di questo tipo di iniziativa io sono un neurologo mi occupo di terapia del dolore da tanti anni da oltre vent'anni e mi sono avvicinato alla neurostimolazione proprio per questo motivo però di fatto la neurostimolazione midollare ha l'applicazione dei campi di applicazione diversi da quelli della neurologia della terapia del dolore e uno di questi è quello della della chirurgia vascolare allora con la posto con gli amici della posto abbiamo deciso di fare un ciclo di seminari dedicati agli specialisti ai vari specialisti alle varie branche specialistiche con diciamo lo scopo di descrivere quali sono appunto le principali indicazioni nei vari settori quindi diciamo sicuramente l'applicazione nell'arteriopatia vascolare periferica per i chirurghi vascolari è di di assoluta importanza è uno strumento terapeutico assolutamente valido almeno in situazioni diciamo ben selezionate e questo diciamo tipo di incontro ha lo scopo anche di diciamo dare delle indicazioni su quello che è un elemento cruciale per il corretto funzionamento della stimolazione midollare in questo tipo di tipo di pazienti c'è la selezione la selezione del paziente un altro aspetto cruciale è quello della della tecnica quindi è importante diciamo avere dei dei medici impiantatori con un'esperienza nel campo della neurostimolazione e quindi prima parlerà il dottor Tufo e il dottor Castrucci che ringrazio mi sono confuso perché il nome è lo stesso è Tommaso che quindi ci descriverà quali sono le situazioni cliniche gli aspetti clinici della eh neurostimolazione midollare in chirurgia vascolare e poi parlerà invece Tommaso Tufo un neurochirurgo degli aspetti più tecnici riguardanti proprio la neurostimolazione eh vi lascio la parola prima di farvi iniziare ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a partire dalla Boston e la communication per l'organizzazione eh ai buoni eh anche per tutto quanto il supporto tecnico e lascio la parola a Tommaso grazie allora quali sono le indicazioni cliniche e la selezione del paziente di questa tecnica diciamo che io stesso impiantavo stimolatori fino a una dozzina di anni fa circa poi abbiamo iniziato ad eseguire eh rivascolarizzazioni sempre più estreme pensate nel mio centro facciamo più di centocinquanta rivascolarizzazioni sotto al ginocchio di tipo endovascolare quindi pensavo che lo spazio per questa tecnica non esistesse più invece più ne fai di arteriopatie periferiche più ti rendi conto che riaprire l'arteria spesso non è sufficiente e in alcuni casi i falliti tentativi di rivascolarizzazione portano ad un peggioramento della situazione e eh spesso all'amputazione dell'arto mentre eh sappiamo che nei pazienti scelti correttamente la eh stimolazione midollare permette di ridurre il tasso di amputazione del quarantasei per cento questo è importante perché il paziente non amputato non solo ha un peggioramento della qualità di vita ma l'amputazione sa stessa influisce negativamente sulla durata della vita quindi le indicazioni generali quali sono l'ischemia critica non rivascolarizzabile ora per quanto riguarda l'ischemia critica qualsiasi chirurgo vascolare eh quando ci parliamo tra di noi sappiamo esattamente che cosa intendiamo per un paziente affetto da ischemia critica nella classificazione di Fontaine è lo stadio 2b cioè la ridotta autonomia di marcia lo stadio 3 quindi la presenza di dolori a riposo e lo stadio 4 la presenza di lesioni trofiche questo però eh diciamo che è una classificazione clinica se vogliamo avere qualche cosa di più ehm strumentalmente validabile c'è la TCPO2 innanzitutto che è la pressione eh transcutanea di ossigeno minore di trenta millimetri di mercurio la pressione alla caviglia minore di cinquanta millimetri di mercurio e la pressione digitale minore di trenta millimetri di mercurio la presenza di ulcerazioni cutanee ovviamente eh ci certifica il fatto che l'ischemia sia critica però purtroppo quando queste sono estese pregiudicano un pochino eh i risultati positivi della neurostimolazione questi sono altri esami che possono essere effettuati per eh verificare lo stato della mitocircolazione che è quella sulla quale maggiormente influisce l'azione della neurostimolazione midollare eh provoca una base di dilatazione del microcircolo facendo crollare le resistenze periferiche e quindi aumentando il flusso periferico è ovvio che questi esami in realtà non sono di eh facile reperibilità eh in tutti i centri ospedalieri comunque la microcircolazione in base a questi parametri può essere definita scarsa quindi con una bassa densità di capillari alla alla capillaroscopia nessuna iperemia reattiva un'ossidometria transcutanea minore di dieci millimetri di mercurio e al laser Doppler nessuna iperemia reattiva pure qui intermedia e qua è proprio il campo di applicazione migliore per la neurostimolazione cioè una TCPO2 a riposo compresa fra dieci e trenta millimetri di mercurio e ehm una migliore eh densità di capillari una migliore ehm reattività alla 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 iperemia reattiva quando la microcircolazione invece è buona quindi una TCPO2 superiore a trenta millimetri di mercurio in pratica probabilmente il paziente andrà incontro a guarigione eh in assenza di eh di neurostimolazione quindi in realtà il paziente sul quale dobbiamo mettere il nostro focus è quello con una microcircolazione intermedia non rivascolarizzabili che cosa significa non rivascolarizzabile eh all'inizio di questa mia presentazione ho detto che eh praticamente tutte le arterie tutte buona parte delle arterie si possono riaprire ma questo non necessariamente porta ad un miglioramento della sopravvivenza dell'arto diciamo che i pazienti che non possono essere trattati chirurgicamente per condizioni generali in realtà sono piuttosto rari qua si tratta di pazienti che devono fare rivascolarizzazioni complesse del segmento aortoiliaco femorale l'assenza di un asse donatore ricevente quindi di una vena autologa fondamentalmente e eh non trattabili con procedure endovascolari come avevo detto prima questi pazienti rimangono pochi però eh il dottor Tufo sa bene che quei cinque sei pazienti l'anno eh del resto è un anno più o meno che collaboriamo che che alla fine non riescono a essere rivascolarizzati ci sono ci sono e vengono trattati con con ottimi risultati quindi in questa angiografia potete vedere un esame in cui l'arto inferiore di sinistra è mancante sia della femorale superficiale che di tutti i rami di gamba qua anche con una rivascolarizzazione endovascolare diventa piuttosto difficile recuperare un buon letto vascolare e anche se lo si fa la durata nel tempo è piuttosto contenuta e questo poi anche se succede spesso porta ad un peggioramento dello stato generale. Quali sono invece i criteri di esclusione? Ovviamente l'assenza di dolori a riposo, le esoni trofiche estese e diciamo che convenzionalmente con un diametro maggiore ai tre centimetri, la presenza di un pacemaker cardiaco anche se poi di questo non sono più sicuro forse il dottor tufo ci darà maggiori lumi su questo, il rachide impossibile, ci sono delle colonne vertebrali che veramente rendono difficile il posizionamento di uno stimolatore, l'aspettativa di vita minore di un anno ovviamente e le condizioni psicosociali. Questa era una foto che usavo nelle mie vecchie presentazioni per mostrare un rachide impossibile. Ok, Abbing e altri autori hanno quindi elaborato quello che è il concetto di SCS match. Quindi se la pressione, la TCPO2 che è la regina diciamo degli esami strumentali è minore di 10 mm di mercurio e durante lo screening, quindi durante la fase test, si arriva uguale a 20 mm di mercurio, raggiunge superi 20 mm di mercurio, oppure una tcpo2 compresa di 10 e 30 nella fase di test sale di almeno un millimetro di mercurio e si ottiene un'analgesia efficace, questo è un paziente con un SCS match. Se invece la tcpo2 è superiore a 30 mm di mercurio o negli altri casi non c'è un miglioramento o non c'è un'analgesia efficace, è un SCS no match. Questi sono dati che sono stati riportati nella Cochrane Review del 2004 che metteva insieme un po' tutte le esperienze più importanti sulla neurostimolazione. Quindi quando il paziente è un paziente SCS match, a tre mesi avremo un 87% di salvataggio d'arto, fino ad arrivare a un 20 pazienti a 48 a 12 mesi, mentre nei pazienti SCS no match il livello di salvataggio d'arto, la percentuale di salvataggio d'arto scende al 10% a 12 mesi, quindi è una differenza veramente importante. I pazienti non candidabili a SCS invece hanno una cosa intermedia perché non candidabili possono essere anche quelli con una PO2 superiore ai 30 mm di mercurio. La Cochrane Review, eccola qua di nuovo, nove lavori, 450 pazienti, erano studi randomizzati controllati, la pressione alla caviglia doveva essere minore di 50 mm di mercurio, la tcpo2 minore di 30 mm di mercurio e la pressione digitale minore di 30, scusate, e la pressione digitale è anche minore di 30 mm di mercurio. Questi sono gli studi più importanti che erano qui citati e come vedete la percentuale di salvataggio d'arto nei pazienti sottoposti a stimolazione è più alta rispetto a quelli che invece perdevano l'arto e non erano stati sottoposti a stimolazione. Cosa più importante, diciamo che anche il punteggio VAS, cioè il punteggio del dolore a 12 mesi, era sensibilmente migliore nei pazienti con stimolazione mitolare rispetto ai loro controlli. Ovviamente le complicanze e i reinterventi probabilmente in quell'epoca in cui gli elettrodi che venivano impiantati erano piuttosto delicati, la pressione dei processi spinosi sull'elettrodo poteva portare a rottura, il tasso di reinterventi va dal 3 al 20%, diciamo, quindi con un 20% circa di media sostituzione dell'elettrodo, sostituzione della batteria, qualche ematoma sotto cutaneo, comunque sia, tutte complicanze minori e ben tollerate in finale dei pazienti. Uno strumento che è stato proposto di recente per rendere più facile soprattutto ai centri che non impiantano ma che devono inviare i pazienti ai centri impiantatori per fare una preselezione è questo SCS tool che è molto facile da trovare online, l'iscrizione è semplice, anche il modo d'uso è piuttosto semplice, si inizia appunto con un'iscrizione e viene prima chiesto se il paziente risponde ai criteri di inclusione, quindi una età maggiore o uguale ai 18 anni, la dolore cronico di durata di almeno sei mesi, ovviamente quando parliamo di arteriopatia ostruttiva deve essere presente almeno da due settimane il dolore cronico associato ovviamente al deficit perfusionale, le indicazioni primarie sono dolore cronico del dorso o degli arti inferiori, un dolore cronico regionale, un dolore neuropatico o un dolore ischemico. Il dolore deve avere una VAS di almeno 5, deve avere un impatto negativo sulla vita del paziente e nella sua fruizione della qualità di vita a livello quotidiano e deve non rispondere o deve rispondere in maniera insufficiente alle terapie mediche o invasive, minimamente invasive come l'iniezione di anestetici locali eccetera eccetera e non si hanno chiare benefici attesi dalla chirurgia, questo è quello che volevo dire prima, cioè è ovvio che è un'occlusione iliaca semplice che dà un dolore a riposo, io so bene che facendogli un orto femorale questo dolore regredirà. Quando invece le lesioni sono più complesse come nel caso che vi ho fatto vedere è molto probabile che questo intervento sarà seguito da insuccesso e quindi la valutazione per il posizionamento dello stimolatore midollare sicuramente è opportuna. Qua ho fatto una simulazione, quindi abbiamo classificato già nel gruppo ovviamente dei dolori ischemici, gli abbiamo dato un Fontaine 2 o 3, come avevo detto questo è proprio il campo di applicazione in cui la neurostimolazione eccelle e gli abbiamo detto anche al sistema che l'uso di farmaci contro la neuropatia, contro il dolore neuropatico aveva avuto un parziale successo e questo ci dà otto punti e mezzo nella scala di possibilità di successo di questa terapia. Quindi io vorrei concludere qui perché diciamo che grazie a questo strumento nuovo online sicuramente la selezione delle pazienze o quantomeno la preselezione poi la TCPO2 e il laser Doppler saranno eseguiti dal centro impiantatore. Comunque i pazienti affetti da ischemia critica non rivascolarizzabile, se correttamente selezionati, possono trarre un notevole beneficio sia in termini di riduzione del dolore che di miglioramento della qualità di vita e ovviamente anche di salvataggio d'alto grazie alla neurostimolazione midollare. Grazie. Grazie Tommaso. Io lascerei direttamente la parola a Tommaso Tufo per parlarci in più nello specifico delle tecniche di neurostimolazione e lascerei diciamo le domande alla fine. eccoci qui. Buonasera a tutti e devo dire complimenti per l'organizzazione di questi incontri perché davvero il fatto di mettere insieme le forze e parlarsi anche a volte tra strutture diverse è davvero la vera forza diciamo del gruppo e questo diciamo un gruppo forte che lavora bene vuol dire avere migliori risultati e quindi questo significa per i pazienti essere seguiti meglio e questo è stato possibile grazie a questo tipo di iniziative quindi ringrazio sempre il dottor Distani e gli amici della Boston che hanno favorito questo tipo di incontri e soprattutto ringrazio il dottor Castrucci col quale stiamo portando avanti uno splendido programma e stiamo assicurando ai nostri pazienti dei trattamenti che non erano più più possibili a volte per motivi insomma gestionali delle varie strutture. Io sono un neurochirurgo e parlerò essenzialmente di quella che è la simulazione spinale in termini di meccanismi di azione tecniche di neuromodulazione. Come già naturalmente è stato discusso quindi la presentazione del dottor Castrucci è stata molto esaustiva e soprattutto ha chiarito un concetto. Allora stiamo parlando di un qualcosa di una terapia che non è per nulla sperimentale in in questa fase ma anzi che ha delle radici storiche culturali scientifiche che sono fortemente presenti insomma nella letteratura. Qui io ho presentato questa immagine solo per farvi per farvi capire il primo impianto di neurostimulatore midollare quindi un sistema che permettesse di simulare il midollo in questo caso per il controllo del dolore è stato fatto come si vede insomma intorno agli anni sessanta naturalmente questi erano dei sistemi sicuramente più rudimentali ma il il concetto il il risultato essenzialmente era ed ancora il quello che erano gli effetti della simulazione midollare sul flusso e quindi sulla sulle condizioni vascolari era un qualcosa che era già ben studiato e riportato nella letteratura degli anni ottanta qui il il gruppo col quale ho collaborato per anni della professoressa cioni e del professor meglio si occupavano dagli anni ottanta praticamente di questo tipo di terapia ed ancora qui vediamo infatti dei lavori dell'ottantuno e dell'ottantasei che già allora essenzialmente sottolineavano come la situazione avesse degli effetti assolutamente significativi sul controllo del dolore e sulla qualità diciamo della del flusso vascolare nei pazienti con con patologia di questo tipo quindi erano già studi che inizialmente potevano sembrare un pochino più rudimentali ma i risultati erano allora eclatanti diciamo così naturalmente gli effetti della simulazione midollare possono cambiare in base alla al sito anche di stimolazione quindi in base ai vari siti di e a vari livelli di stimolazione puoi avere degli effetti diversi la simulazione midollare non sono diciamo su questo tipo di applicazione discusso oggi ma anche nelle nel trattamento del dolore neuropatico per esempio nel nel trattamento dell'angina reprattaria nel controllo diciamo nelle problematiche di natura sfinteriche quindi con la simulazione è qualcosa che presenta delle indicazioni abbastanza vaste questo è è un po il percorso di di selezione come dicevamo del paziente con come già è stato discusso dalla dal dottor castrucci quando a un certo punto intervenire con e proporre quando può essere consigliato proporre la simulazione spinale quindi quando ci troviamo in in questo stadio insomma essenzialmente della della patologia naturalmente quello che è cambiato molto e dirò qualcosa al riguardo rispetto a diciamo vent'anni fa trent'anni fa agli inizi diciamo di questo tipo di esperienze che i nuovi sistemi di neuro stimolatori di neuro stimolazione presentano delle novità tecnologiche e delle eh sono effettivamente dei sistemi molto avanzati con i quali non solo si riesce ad interagire con con i midollo spinali in maniera diversa quindi con l'utilizzo di nuove forme d'onda che prima non erano presenti per quanto riguarda le modalità di azione per per la patologia vascolare periferica naturalmente ci sono le due classiche teorie essenzialmente dopo i primi le prime osservazioni fatte nel 76 essenzialmente quindi una delle teorie diciamo più accreditate è quella della della soppressione essenzialmente del tono simpatico con con la simulazione midollare quindi che ha questo tipo di effetto oppure la seconda teoria che ci possa essere un effetto antidromico quindi di attivazione tramite le fibre midollari e il rilascio di agenti vasodilatatori essenzialmente comunque queste sono le le teorie più eh accreditate anche se i meccanismi di azione come possiamo vedere per esempio da queste pubblicazioni che vanno dal 76 sono è qualcosa che eh è riportato a a delle radici nel la ricerca di base eh abbastanza consolidate qui eh ed ecco vediamo infatti in ancora riproposti in i lavori un pochino relativamente recenti del nel 2008 che confermano a livello sperimentale quello che può essere il il meccanismo dietro diciamo la simulazione spinale ed eh in particolare eh quello che che vediamo in in questa diapositiva è una sintesi di varie condizioni vascolari quindi da quella dalle angine alla forma diciamo di condizioni cerebro vascolari cerebrali a quelle in alto a destra in questo caso di nostro interesse quindi quello che può essere l'effetto della simulazione midollare nella eh sul sistema periferico vascolare quindi del degli arti inferiori con una stimolazione mirata soprattutto dal livello L2 L3 in questi casi quindi quello che sono le varie ipotesi quindi della di questa attivazione antidromica con rilascio quindi di ehm agenti che possono favorire la protezione eh endotereale l'angiogenesi e la vasodilatazione all'ipotesi del eh della diminuzione del tono simpatico quindi che possa regolare anche in questo caso la vasodilatazione e che per quanto riguarda la stessa stimolazione elettrica per esempio delle collaterali arteriose quindi con eh un effetto di apertura di collaterali questo insomma un altro tipo di ipotesi riportato in eh in questo studio ancora così sono lavori sempre relativamente recenti per confermare quella che è l'effetto di questo tipo di terapia e quindi quello che per giustificare il tipo di risultati mh questo è è quello diciamo che eh è stato ben chiarito dal dal collega per quanto riguarda la selezione di questo tipo di paziente quindi eh noi sappiamo bene che una accurata e attenta selezione del paziente e eh ci consente il miglior outcome eh in questo senso è stato ben eh ben spiegato quali sono i i criteri di selezione quindi in questo caso eh naturalmente faccio vedere qualche qualcosa riportato nei nei lavori per quanto riguarda non solo il controllo diciamo del dolore in questo tipo di pazienti già riportati ma anche il il miglioramento e la la guarigione di alcuni tipi di eh ulcere vascolari quindi ben riportate naturalmente sui criteri di eh esclusione inclusione esclusione naturalmente qui sono cambiati negli ultimi anni considerato quello che è già stato detto per quanto riguarda le eh l'ampia diciamo applicazione di tecniche endovascolari questo tipo di terapia penso che valga la pena ridiscuterla eh è la pratica clinica ci ha insegnato che ci sono pazienti che non possono se possono essere rivascolarizzati sempre come dicevamo ma che i risultati possono non essere quelli attesi né persistenti quindi nel nel lungo termine quindi su questo tipo di pazienti eh c'è indicazione quindi e fa sicuramente riproposto un trattamento con eh simulare naturalmente dicevamo già è è è un trattamento che è indicato ed ho approvato quindi per la malattia ostruttiva arteriosa periferica per l'angina refrattare la sindrome X e dire no per quanto riguarda l'aspetto tecnico ho ho portato qualche diapositiva per ehm per i non per i colleghi che non ehm che non praticano questo tipo di di procedura si tratta di una procedura per cutanea che si esegue in anestesia locale con o in sedazione farmacologica che richiede generalmente una o due notti di ricovero in in relazione anche a seconda delle ehm delle modalità di rimborso diciamo del sistema della struttura quindi eh in sala operatoria si sottoguida ehm iscopia tramite un 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 ago di tuoi incluso in nei vari kit perché c'è da dire il kit del degli elettro e degli simulatori spinali vengono forniti completi quindi hanno tutti eh i sistemi di ehm applicazione quindi si punge lo spazio epidurale posteriore con con ago di tuoi apposito per questo tipo di sistemi sottoguida iscopia e si fa risalire l'elettrodo nello spazio epidurale ehm spazio epidurale che può essere identificato con varie tecniche con con la perdita di resistenza per esempio una delle delle più classiche il sistema viene fatto risalire quindi sottoguida iscopia si può decidere di posizionare uno due elettrodi a secondo insomma del caso con eh a livello intraoperatorio come vediamo nell'immagine a sinistra il corretto posizionamento dello spazio epidurale posteriore attenzione insomma va fatta come vediamo a destra a eh ad osservare questo tipo di ehm di posizionamento a evitare degli elettrodi in posizioni eh anteriore come vediamo nella prima immagine ma che con una buona scopia intraoperatore quindi si riesce comunque a ottenere il corretto posizionamento a volte anche nei casi più difficili questo è una volta posizionato l'elettro nello spazio epidurale ci sono degli appositi sistemi di ancoraggio per prevenire le dislocazioni un tempo molto frequenti i nuovi sistemi sono assolutamente affidabili considerato anche i nuovi materiali e la nuova tecnologia di questi elettori sono molto più resistenti dalle dai comuni danni diciamo che si vedevano un tempo quindi l'elettrodo viene eh posizionato nello spazio epidurale fissato alla fascia e tunnelizzato a raggiungere quella che è la tasca del generatore tasca del generatore che si può ehm si può decidere di di posizionare in sede latero addominale oppure sul fianco destro a secondo del paziente insomma della anche della rappresentazione del sottocude dello stesso paziente tutto in anestesia locale generalmente è un intervento che dura complessivamente tra i quindici e trenta minuti il paziente si mobilizza eh immediatamente si fa da sveglio quindi si controllano anche eventuali complicanze questo per farvi capire come le indicazioni alla simulazione eh midollare eh presentano sono state sono delle condizioni approvate sono delle eh indicazioni che vengono già ormai da tempo eh indicate anche se eh non non tutti diciamo le prendono in considerazione per per quanto diciamo è stato già discusso quello che vediamo qui per esempio sono anche e anche il l'impatto scientifico che ha la neurostimolazione midollare nelle patologie vascolari quello che possiamo vedere sicuramente c'è stato un picco intorno agli anni novanta duemila per poi un pochino decrescere di interesse nel tempo anche se comunque le ultime eh revisioni dei lavori che sono state fatte continuano a confermare quelle che erano le iniziali osservazioni cioè nel senso che è un trattamento efficace e che ehm presente dei risultati sovrapponibili ehm sovrapponibili dei risultati migliori a al miglior trattamento medico possibile in termini di controllo del dolore soprattutto e il miglioramento anche di alcune condizioni vascolari questo è è quello che viene riportato sono le eh i classici eh eh randomizzati riportati in eh in letteratura che sono stati già ben ben discorsi purtroppo sono delle degli studi ehm datati che continuano però a dar forza a questo tipo di applicazione anche qui questo vediamo è e quanto già ehm abbiamo detto quindi ehm essenzialmente come eh l'efficacia della simulazione spinale venga venga confermato e riportato sempre in questi studi e ed anche lo stesso diciamo cosa molto importante su quelli che sono i costi della neuromodulazione rispetto al trattamento conservativo qui quello che vediamo i costi a due anni in questo tipo di studio viene eh riportata una differenza di eh di circa settemila euro che possono essere come dire con considerevoli in un'ottica diciamo eh gestionale insomma di un ospedale ma come vediamo a fronte di una di un costo comunque alto di gestione di questo tipo di pazienti quindi io penso che tra i due gruppi non ci sia grossa differenza e che la terapia con con aerostimolazione sia assolutamente sostenibile per quanto riguarda gli outcome anche qui diciamo sono stati dei concetti ben ben descritti dal collega e qui ci sono gli studi ancora riportati diciamo randomizzati che che confermano quello che è il l'efficacia del del trattamento quello che è cambiato quindi dicevamo nel negli ultimi eh quindici anni sono stati eh sono attualmente disponibili in commercio dei dei sistemi che permettono di fare di eh di stimolare delle onde e delle modalità dei paradigmi di stimolazione prima non non presenti ogni paradigma di stimolazione ha la possibilità di attivare dei circuiti che sono completamente diversi quindi questo apre quello che è un un campo di studio importantissimo in questo senso perché quello che 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 è stato fatto i studi che hanno dato supporto a questo tipo di metodica ora con con dei nuovi sistemi che sicuramente consentono di fare una chirurgia meno invasiva sistemi che consentono di non essere come di non richiedere delle revisioni così frequenti come un tempo ci consentono anche di personalizzare il il tipo di stimolazione quindi personalizzare la terapia ed aprono dicevo ancora ripeto un campo di di ricerca di eh enorme eh interesse in questo senso i nuovi sistemi ancora ho fatto vedere mh qui in basso a destra ci sono alcuni sistemi che stiamo andando un pochino tutti in quella direzione eh possono essere controllati in in remoto quindi anche il controllo di un neurostimolatore può essere effettuato in remoto questo facilita tantissimo soprattutto dopo le fasi che che abbiamo trascorso negli ultimi anni la gestione di questo tipo di pazienti naturalmente eh questa è una diapositiva che io dopo dieci quindici anni continuo sempre a a a riproporre sappiamo che funziona la simulazione spinale ma i meccanismi alla base di questo funzionamento ancora non non sono noti questo è diciamo una considerazione per queste terapie l'altra considerazione è che i costi di questo tipo di sistemi perché dobbiamo parlare anche di questo quando si parla di di economia sanitaria continuano a essere soprattutto nel nostro sistema ehm alti in alcune in alcune casi e l'appropriatezza dei rimborsi ancora discutibile questo non consente come dire l'applicazione di queste terapie in in tutte le strutture purtroppo naturalmente eh quello che dicevamo con i nuovi paradigmi di stimolazione di innovazione tecnologica aprono sicuramente nuove prospettive anche per quelli che possono essere i pazienti classici non risponde ma che naturalmente in questi casi bisogna stare sempre molto attenti all'informazione del paziente qui stiamo parlando di una opzione per per pochi pazienti molto selezionati soprattutto diciamo per il controllo del dolore in questi casi ma che va assolutamente discusso in in ambito multidisciplinare quindi questo per ottimizzare i risultati vi ringrazio per l'attenzione io ringrazio anche il collega il professor Barbarisi col quale facevamo questa relazione tempo fa anche lui nero chirurgo di Napoli a disposizione diciamo per ogni tipo di eh informazione e un po' quella che è la anche un pochino la letteratura a disposizione grazie a tutti grazie a te Tommaso eh io lascerei spazio subito alle domande se ci sono domande se intanto non ce ne sono io mi farei una eh che è rivolta diciamo più a Tommaso Tufo eh allora esistono quindi diciamo da un punto di vista clinico la cosa interessante è che nel nell'ambito dell'applicazione in chirurgia vascolare la la neurostimolazione midollare dà un doppio eh vantaggio doppio effetto cioè da una parte ti consente di di controllare il dolore ma dall'altra migliora anche la vascularizzazione allora alla luce del fatto che eh negli ultimi anni sono state diciamo sviluppate nuove tecniche di diciamo di neurostimolazione più che altro nuovi pattern di stimolazione esiste un pattern specifico e mi riferisco per esempio alla all'alta frequenza e soprattutto la DRG no la stimolazione di mh del ganglio eh più indicato a migliorare anche appunto l'aspetto della vascularizzazione ti faccio questa domanda perché anatomicamente mi viene da pensare che un tipo di stimolazione della della radice dorsale possa in qualche modo andare a interferire maggiormente con quella che è l'attività neuronale sulla catena dei gangli simpatici no che si trova comunque anatomicamente molto diciamo in prossimità guarda in verità questa è una giusta eh osservazione infatti diciamo nella in questo tipo di patologie vascolari quello che tu vedi il target e il livello di stimolazione è più basso rispetto al a quello diciamo eh convenzionale per i dolori neuropatici per esempio post chirurgici quindi noi andiamo a stimolare una regione che è compresa tra di dodici e delle tre e quindi qui stiamo parlando proprio delle delle radici alla fine quindi è vero che parliamo di una stimolazione midollare ma in verità noi stiamo stimolando soprattutto una zona delle radici della cauda quindi il concetto è corretto effettivamente e l'altra cosa da dire è che comunque mh i le patologie pascolare diciamo così in linea generale sono quelle che classicamente sono state meglio controllate con stimolazioni a a a 80 hertz quindi diciamo a frequenze diciamo basse chiamiamole così ora ci sono degli studi per quanto riguarda anche delle forme di neuropatia eh nei diabetici con con i 10.000 hertz che sono state per esempio portate avanti ci sono degli studi per quanto riguarda l'utilizzo di eh paradigmi e basta ma eh in questo caso ancora diciamo i classici 80 hertz sono quelli che mantengono eh i migliori risultati ma come dicevo essendo stato introdotti recentemente eh questi nuovi stimolatori quindi noi abbiamo ora a disposizione come se fosse vari trattamenti vari regimi diciamo così terapeutici ma il risultato clinico e la parte clinica non abbiamo in questa fase ancora un uno studio clinico che che ci possa dimostrare la superiorità di un paradigma rispetto all'altro assolutamente però ti ripeto per quanto riguarda il target di stimolazione noi qui effettivamente stiamo stimolando parte anche delle radici della cauda quindi è una stimolazione sicuramente più periferica. Ok grazie Don Masso. Ci sono domande? Fabrizio volevo tu hai parlato di simpatico pure no? Sì. Io ricordo agli albori della mia carriera si praticava un intervento che era la simpaticectomia. Sì. Che però aveva un risultato provvisorio durava sei mesi un anno e poi la vasocostrizione eh ritornava mentre con la stimolazione midollare finché dura la batteria e l'elettro dura l'effetto. Quindi diciamo che la parte del simpatico direttamente coinvolta non non so alla fine poi quanto sia importante no? Cioè quando nella mia esperienza ricordo anche che eh l'abolizione del dolore portava di per sé ad un miglioramento della eh ad un incremento del flusso ematico ad una vasodilatazione cioè lo stimolo dolorifico tutti sappiamo è vasocostrizione vasocostrittore di per sé. Sì. Quindi tu diciamo la la tua ipotesi che che il diciamo il tono noradrenergico diciamo si è più dovuto diciamo alla noradrenalina circolante prodotta dal surrene sotto lo stimolo stressogeno del dolore piuttosto che quello diciamo indossati al simpatico in sede. Perché quando si interrompeva il simpatico ma se ne toglievano dieci centimetri eh non è che eh poi dopo l'effetto di vasocostrizione in qualche maniera tornava. Senti ti faccio una domanda Tommaso io allora questa è una cosa che non sapevo effettivamente perché poi eh non non ho mai collaborato con chirurghi vascolari. Eh quello che mi fa piacere vedere è che di fatto esistono proprio dei parametri eh precisi estremamente precisi per la selezione del paziente da sottoporre a eh stimolazione spinale almeno nei pazienti eh appunto vascolari. Ora effettivamente qual è la discriminante? Dato diciamo questo punto di partenza dal fatto che questa DCPO2 deve essere più o meno tra i dieci trenta diciamo millimetri di mercurio se non ho capito male. Qual è la discriminante che ti diciamo fa mh propendere per l'utilizzo di un neurostimolatore piuttosto che per un intervento chirurgico tradizionale se così vogliamo chiamare? Guarda gli ultimi casi che ho diciamo gli ultimi casi che ho mandato a Tommaso Tufo possono essere quelli che paradigmaticamente stanno ad indicare quello che faccio io attualmente. Eh io sono diciamo da questo punto di vista un po' un chirurgo vascolare sui generis nel senso che ho praticato io stesso impianti di neurostimolazione quindi è una terapia che mi viene in mente. Ok? Ci sono tanti centri di chirurgia vascolare dove non è proprio considerata. Per me il paziente da sottoporre a neurostimolazione è un paziente in cui o presumo che una rivascolarizzazione non possa essere eseguita da successo e dopo tanti anni di pratica lo sai da prima quali saranno quelli che funzioneranno e quelli che non funzioneranno oppure quelli in cui erroneamente ovviamente pensavi che la rivascolarizzazione avrebbe avuto successo e così non è stato. L'ultimo paziente che ho mandato a Tommaso è un paziente che è stato operato due volte nel giro di pochi giorni si è presentato con una trombosi iliaco femorale io gli ho fatto un'embolectomia secondo Fogarty sarebbe gli ho stappato l'arteria diciamo con delle metodiche particolari gli ho messo dei stent nell'iliaca questo paziente aveva una discoagulopatia per cui il lavoro che abbiamo fatto una notte la sera del giorno dopo si è richiusa quindi ha fatto un bypass femoro distale cioè a partire dall'arteria femorale fino alla tibiale alla caviglia in composito cioè in parte con protesi in parte in vena purtroppo negli ultimi giorni si è chiuso anche questo il paziente quindi adesso ha un piede moderatamente ipotermico è ovvio che su un ischemia acuta piede bianco paretico eccetera non c'è terapia che te lo possa risolvere questo quadro ma un ischemia intermedia come dicevo può in questi casi funziona rivascolarizzarlo è assurdo abbiamo fatto un femoro distale più del femoro distale non c'è niente quindi questo è il paziente con un piede ancora in una situazione non criticissima è un paziente che può beneficiare anzi io sono sicuro che questo paziente beneficerà della neurostimolazione quindi sono quei pazienti che hai tentato di rivascolarizzare o nei quali non vedi ragionevoli possibilità di rivascolarizzazione però però sono quei pazienti che in gergo brutale del chirurgo vascolare non hanno un piede in mano d'accordo cioè è quel campo intermedio il piede diabetico pieno di pus no lì non ci puoi fare però l'ulceretta piccole magari come quelle che ha fatto vedere Tommaso nella sua presentazione un centimetro due centimetri di diametro con un'iperemia cioè la cosa interessante della tcpo2 è anche la variazione del valore con i movimenti dell'arto cioè se il paziente mette l'arto in posizione declive tu vedrai la tcpo2 che sale e questo vuol dire che un minimo di un minimo che un po' di vasoreattività è rimasta e quindi su quei pazienti tu puoi lavorare se c'hai otto di tcpo2 quando metti il piede giù rimane otto è difficile però diciamo che con un intervento percutaneo semplice come quelli che diceva il dottor Tufo un tentativo si può sempre fare ok sì grazie sono domande io guarda voglio fare solo una considerazione devo dire che considerato le metodi io classicamente mi occupo di neuromodulazione perché è stato un pochino parte del mio background da ma quando ero specializzando diciamo grazie a chi mi ha poi formato in questo campo ma il fatto di avere un chirurgo vascolare con interesse in questo tipo di metodologia è una cosa unica ma penso che non dovrebbe forse essere un qualcosa del genere perché è assolutamente una tecnica ma anche l'aspetto culturale qualcosa che deve entrare nella pratica della deve rientrare diciamo forse nella pratica della chirurgia vascolare perché è sicuramente come dicevamo il numero dei pazienti possono essere pochi ma non così pochi qui non stiamo parlando di patologie rare qui non stiamo parlando di nulla di questo tipo quindi perché perché non non avere un tool di questo tipo a a casa propria poi benissimo diciamo l'aspetto della collaborazione perché magari ti puoi trovare in quei casi come dici delle colonne difficili ma lì benissimo lì entra il neurochirurgo ti aiuta con delle tecniche anche mini invasive mini open si possono fare di questo tipo dove naturalmente il neurochirurgo ti dà un pochino più di più di sicurezza anche in caso nella gestione di complicanze quindi sempre benissimo lavorare insieme però penso che sia una metodica che dovrebbe un pochino rientrare anche diciamo non a casa vostra perché è bello condividere le cose e lavorare insieme ma tra le vostre il vostro armamentario ma sai Tommaso io ho smesso di mettere stimolatori midollari quando per 20 minuti di lavoro avevo da fare tre settimane di paperwork per farmene comprare uno e diciamo che in gioco quindi adesso vedo che sei bravo li metti bene io ti trovo i pazienti te li mando e te ti fai tutte le scartofie sì Tommaso alla fine questo è il problema principale legare i documenti cioè in realtà centralizzare tutte quante queste menate riduce anche proprio il peso specifico di tutti quanti questi passaggi che sono obiettivamente io tutti i colleghi che ho sentito indipendentemente dall'ospedale di provenienza hanno avuto dei problemi enormi noi quando fu al policlinico ti lascio immaginare è stato veramente un problema enorme però io credo questo sia l'elemento principale e comunque io rimango dell'idea che se c'è un medico o dei medici diciamo che hanno più esperienza è meglio diciamo perché comunque ogni tanto ci sono delle complicanze quando si mettono gli stimolatori e gestire una complicanza poi non diventa semplice se ne metti quattro all'anno anche su questo su questo vi dico da questo punto di vista sì infatti io ho detto è giusto che possa rientrare in un armamentario ma lavorare insieme è sicuramente meglio poi avevo fatto forse non mi sono sottolineato non ho sottolineato la eh questo dato ma eh negli ultimi lavori discorso delle complicanze si abbassa complicanze in termini generali ad un tredici per cento dei casi ma è un tredici per cento dei casi tra i culi insomma devi anche mettere in considerazione delle delle morragie degli amatomi epidurali insomma delle compressioni mitollari acute quindi che ti diventano poi difficili da da gestire quindi lì è sempre il discorso ma sempre e l'altra cosa hai detto benissimo lì bisogna anche rispettare in questo caso l'expertise e sicuramente l'esperienza perché perché c'è si riesce a lavorare insieme e rispettare l'esperienza dell'altro ed è il modo per ottenere risultati migliori questo sicuramente comunque guarda questa è un'epoca in cui tutti vogliono fare tutto tutti i chirurghi vascolari vogliono fare le orte complesse con venticinque branch eccetera eccetera e quindi nessuno riesce ad avere un volume di lavoro sufficiente per sviluppare un expertise come diceva Tommaso io penso che se lui ha la capacità non vedo perché voglio dire a Roma ne basta uno due di centri di riferimento non c'è bisogno che le tredici quattordici chirurgie vascolari che ci sono in giro per la città impiantino eh di per loro diciamo così quindi va benissimo per me va benissimo è un ottimo modello eh io io do il numero di telefono a un paziente Tommaso chiedà appuntamento al bar del 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 gemelli si sono visti tutti contenti e il paziente è stato curato non si è sentito abbandonato perché questo è importante nei pazienti cronici in cui la parte emotiva gioca un ruolo molto importante dell'adesione al alla terapia e quindi per me va benissimo così è ovvio che mi piacerebbe come tutti noi fare tutto dalla alla z no però ehm ecco a me non è mai capitato per però siamo però siamo invecchiati abbiamo possibile bravo esatto esatto no io sono sono assolutamente d'accordo con te lo spirito di questo di questi incontri è esattamente questo cioè creare dare dei dei consigli dei suggerimenti su quelle che sono indicazioni e far presente che esistono delle persone esperte che si occupano di di stimolazione e che il paziente non lo perdi semplicemente come dici tu gli dai una mano a risolvere un problema che tu non sai gestire perché comunque appunto nessuno di noi sa fare tutto quindi è giusto creare network che siano poi trasversali da tra università ospedali privato pubblico secondo me ehm non ha senso fare grosse diciamo distinzioni in settori come questo e e sempre di più sono convinto che la medicina sarà trasversale non non sarà tutta quanta all'interno di un ospedale tranne pochi centri ma secondo me anche quello non è fattibile eh difficile comunque se ci sono domande io vi ringrazio ehm vi auguro buona serata e veramente grazie da tutti i due Tommaso per la vostra diciamo partecipazione e il vostro aiuto nel nell'ottima riuscita di questo incontro e ci vediamo il nove per chi è interessato a stimolazione cerebrale profonda in neurologia e disturbi del movimento buona giornata grazie a tutti salve buona serata grazie ciao grazie buona serata grazie a tutti